Nuovo successo per l'Amena Scuola Baschettarezzo che batte al Palace Porta Estra Mario D'Agata nella prima giornata di ritorno in Livorno per 80-54, confermando il secondo posto in classifica e facendo un passo praticamente decisivo verso la salvezza, obiettivo primario di questa stagione. L'inizio partita non è stato brillantissimo per la squadra di Pacini, Mariani e Volpi hanno guidato i tirrenici a un break positivo fino al massimo vantaggio di 9 lunghezze sul 18-9. Punto dopo punto, grazie a un eccellente Fratini e a un concreto Castelli, l'Amena ha risalito la china stringendo le maglie in difesa e riuscendo nel sorpasso pochi istanti prima della fine del secondo quarto. Dopo l'intervallo lungo gli Amaranto hanno cambiato marcia, Fratini ha punito ogni indecisione della difesa livornese, propiziandolo a lungo che si sarebbe rivelato decisivo con il passare dei minuti. Livorno, che ha perso per infortunio un positivo Volpi, non è riuscito a arginare l'Amen trovando tantissima difficoltà a mettere punti a riferto. Nella seconda parte di gara gli ospiti infatti segnano solo 19 punti a fronte dei 44 degli Aretini, che hanno trovato un cutini più brillante nel finale di gara, andando a chiudere sull'80-54 finale. Un altro risultato positivo per l'Amen, che consolida il proprio secondo posto in classifica, domenica big match contro l'Audax Carrara, terza in classifica. La squadra di Pacini può guardare al giocatore di ritorno da una parte con maggiore serenità, dall'altra con l'ambizione di togliersi le giuste soddisfazioni, per quanto visto fino ad oggi sul parquet di gioco. Pacini che praticamente sta conducendo per mano una squadra che al momento sta dando risultati veramente strabilianti. Sì, diciamo che questa scelta che la società aveva preso quest'anno fa parte di quel miglioramento che doveva essere fatto. Noi non dimentichiamo che abbiamo fatto un progetto ormai da qualche anno che doveva essere improntato su vari aspetti. Primo è stato il settore giovanile con l'acquisizione di Umberto Vezzosi e cominciamo a vedere qualche frutto da quel settore. Il secondo era quello di far crescere la prima squadra e mi sembra che la strada sia stata scelta bene. Il merito non è mio ma è giustamente delle conoscenze tecniche di Umberto Vezzosi, il quale con le risorse che avevamo non si poteva prendere certo Ettore Messina. Insomma, quindi siamo andati a cercare fuori dal nostro contesto provinciale un allenatore che avesse delle caratteristiche che si addicesse alla nostra squadra. Poi il merito è tutto di Mario Pacini perché è riuscito pur nella sua veste di uomo, non so come l'ha chiamato ma ci sta bene, ci sta proprio bene. Con quel suo modo tranquillo di gestire le cose è riuscito a far sì che un gruppo di ragazzi completamente non professionisti della nostra città si amalgamassero ancora di più di quello che sono stati fino ad oggi. Quindi il merito va sicuramente a lui e a Massimo Pacquini che è il suo vice e che conosce molto bene i nostri ragazzi.